Buongiorno a tutti i tre spettatori di Medicina Facile, puntata dedicata alle ludopatie e in particolare a tutte le armi che abbiamo per aiutare le persone che hanno sviluppato una dipendenza da gioco d'azzardo. Naturalmente ci concentreremo anche sui sintomi, sui fattori di rischio, faremo un'analisi precisa di questo fenomeno che in tantissime situazioni equivale ad una vera e propria piaga della nostra società. Faremo tutto questo grazie alla competenza del nostro graditissimo ospite, ve lo presento subito e volentieri, buongiorno e benvenuto nei nostri studi al dottor Adelmo Di Salvatore. Buongiorno. Buongiorno. La vedo sorridente, sta bene? Sì, sto benissimo. Benissimo. Dottor Adelmo Di Salvatore, psichiatra, direttore dell'Unità Operativa Complessa, servizio per le dipendenze area marsica della ASL Avezzano sul Mona L'Aquila. Le chiedo subito, che attività ludica è il gioco d'azzardo, dottore? Questa parola ludica non mi piace tanto perché ricorda il gioco, il gioco vero, il gioco quello divertente, quello che dà piacere, quello che è libero, quello che fa star bene continuamente, che so, il girotondo dei bambini, oppure andare in bicicletta o fare footing, o anche giocare a scacchi, risolvere un cruciverba, sciogliere un rebus. Giocare a nascondino. Giocare a nascondino, a zoom per cento, tutte queste cose che facevamo da piccolo. Questo è il vero gioco, che è libero. L'azzardo non è il gioco, c'è un'ambiguità concettuale perché nella lingua inglese il to play significa giocare, è distinto a to gamble che vuol dire azzardare. Nella nostra lingua questo genera un equivoco grossolano che ovviamente fa confusione. Perché? Perché se il gioco è quello che abbiamo detto, quando è che si configura un gioco d'azzardo o un azzardo? È quando un giocatore, tra virgolette, mette in paglia una posta che consiste in denaro oppure in altri beni che abbiano un certo valore, beni mobili, beni mobili, oppure addirittura scommettere su cose virtuali, cose da fare. Questa posta, una volta messa in paglia, non può essere ritirata, un'altra condizione. La faccenda è che se la posta non può essere ritirata, io mi aspetto una vincita. D'accordo? Questa vincita è fondata sul caso, può essere fondata anche sulla abilità, penso al poker per esempio, oppure giocare a soppa o alla bestia, giocare a carte, però è sempre il caso che domina. Allora ogni volta che si ha una condizione di questo tipo si è di fronte al cosiddetto gioco d'azzardo o l'azzardo. E questa ambiguità concettuale, se noi andiamo a vedere il testo unico per le leggi di pubblica sicurezza del 1931, ci fa capire che questo termine d'azzardo è stato censurato dai governi che sono venuti successivamente. Perché? Perché l'azzardo è proibito dalla legge italiana e che se è cambiato il nome non si parla più di azzardo che implica questa nozione e connotazione di rischio, di pericolo, si parla di gioco di alia composta in danaro, gaming, gioco pubblico, apparecchia di intrattenimento con vincita in danaro. In realtà ogni gioco che tenga presente la finalità di lucro e che la vincita, la perdita è affidata interamente o quasi interamente al caso, si tratta di azzardo. In poche parole hanno cambiato il nome all'azzardo e quindi è facile dire che è un gioco. L'azzardo ovviamente è tutto quello che riguarda le videolotterie, le slot machine, il gratte vinci, il poker e tutto quanto noi sappiamo. Vabbè, comunque lo vogliamo chiamare azzardopatia, ludopatia. Quando diventa una malattia e secondo anche quanto ci ha appena detto lei, il gioco d'azzardo visto sotto queste forme e formule è sempre dannoso? Sì, l'azzardo è sempre dannoso. Non importa la quantità giocata in danaro o in bene, in valore. Non importa neanche dove si è giocato, con chi si è giocato, con che cosa si è giocato, importa vedere quello che succede quando si gioca, quando si azzarda. Vi faccio un esempio, ne faccio un esempio. Ho conosciuto una persona che durante il mese di dicembre doveva pagare la bolletta del gas, non l'ha pagata, hanno staccato il gas, era il periodo di Natale. Ha giocato solo quella volta. È un danno oppure no? Certo che è un danno, d'accordo? Oppure si arriva, che so, al suicidio, all'omicidio, alle separazioni, ai divorzi, tutti i problemi legati all'azzardo, che è un estremo ovviamente di questo, che io chiamo continuum. È un continuum perché se anche uno non azzarda, uno non gioca d'azzardo, può avere comunque problemi, perché magari azzarda un familiare, azzarda un conoscente, azzarda un parente che gli chiede soldi. E questo è un danno anche se non gioca d'azzardo. Si chiama giocare d'azzardo passivo. Ora, questo continuum va da una notazione zero, cioè non si gioca, fino alla notazione X, dove si può arrivare a parlare di malattia, tra virgolette, o dipendenza, tra virgolette. E in mezzo ci sono i cosiddetti giocatori sociali o responsabili, giocatori problematici, giocatori patologici o compulsivi, in una sorta di continuità. Però questa distinzione è artificiosa, non è possibile sapere con precisione chi va definito giocatore sociale o responsabile. Cosa vuol dire giocare responsabile? Il giocare responsabile, vero, è quello di non azzardare mai, perché soltanto in quel caso, tenendosi i soldi, si riesce a vincere. Cioè, se uno vuol veramente vincere è bene che si tenga i soldi e non giochi mai. Questa progressione avviene perché si arriva alla cosiddetta malattia da azzardo, o la dipendenza da azzardo, perché esiste una grande fascia di popolazione che gioca, per così dire, responsabilmente o socialmente. Ma se non ci fosse questa grande fascia di popolazione non ci sarebbero i giocatori compulsivi. Perché? È come in una popolazione dove si consuma, che so, un chilo di sale al mese. In un'altra popolazione, con lo stesso numero di individui, si consuma mezzo chilo di sale al mese. Secondo lei, dove ci sarà probabilità che ci sia un maggiore numero di persone con la pressione arteriosa alta? Dove si consuma un chilo di sale al mese. Ma lo sappiamo in anticipo chi avrà la pressione alta e chi no? No, assolutamente. Ecco perché il continuum va tenuto presente, quindi c'è un estremo no azzardo con un estremo danni gravissimi. Che cosa prova chi gioca? Questa febbre come sale? Perché diventa una malattia? Sì, guardi, l'azzardatore in fondo lo fa inizialmente un po' per curiosità, un po' per inibire pensieri, sensazioni, emozioni negative, per inibire la sua ansia, la sua irrequietezza, anche il suo umore depresso a volte. E però lo fa in un contesto specifico, magari ne parleremo. E quando uno comincia a giocare, comincia a azzardare, non sa mai dove finirà. Il fatto è che se gioca, azzarda e reazzarda e reazzarda, in pratica espone il suo cervello a una esposizione continua. E quindi si alterano tutti i meccanismi biochimici del cervello e soprattutto interessati sono le aree dove vengono controllate le emozioni, dove è controllata la motivazione, anche il controllo degli impulsi e il controllo anche della capacità di raziocinio, della capacità di scelta. Quindi i comportamenti si alterano anche grazie a questa ripetuta esposizione. In più il cervello ha memoria di tutto quello che accade e quindi si crea una sorta di ancoraggio per cui un azzardatore che abbia avuto problemi seri ritorni nei luoghi dove ha azzardato, o veda persone con le quali ha azzardato, o senta suoni, o addirittura meccanismi che sono le slot machine dove è stato presente quando azzardava, anche se ha smesso di azzardare e faccia che ricada proprio a causa di questa memoria, di questo ancoraggio. Cosa accade nel cervello di un giocatore? Che meccanismi scatenanti provoca il gioco? Sì, poi c'è anche questa particolarità di pensiero magico, la illusione di poter controllare il caso, agganciarsi come quando si fanno le corna oppure si porta le cornette appresso a qualcosa che ha a fare con la scaramanzia. Con la scaramanzia, porta bene, porta male. Sì, adesso vincerò perché è passata una macchina di colore rosso, oggi perdo perché piove. Insomma, essere legato a questo pensiero magico, l'illusione di poter controllare la fortuna. E poi ancora, se ho perso per 10-15 volte, adesso è il momento che vinco perché così mi è accaduto una volta. Perché una delle disgrazie che capitano all'azzardatore, al giocatore d'azzardo, è di vincere. Se non vincesse magari non avrebbe poi gravi problemi perché smetterebbe, ma basta vincere una volta e sono guai seri. Ho conosciuto una famiglia con una vincita superanotto di 5 milioni di euro. La famiglia si è rigiocato tutto. La signora che aveva vinto è morta dall'infarto e miocardio. Non ci credo. Sì, sì. E i figli adesso hanno chiesto aiuto, uno ha smesso di giocare, sono due anni. Un altro no. Continuo. 5 milioni di euro. Cosa accade nel cervello di un giocatore? Sì, nel cervello di un giocatore si hanno delle alterazioni funzionali e se mandiamo una diapositiva, qui si vede benissimo, vedete, le stesse alterazioni che si hanno, con la risonanza magnetica funzionale si vede bene, per uno che sta per consumare una piccola quantità di cocaina, si hanno nella medesima area per uno che sta aspettando, che si aspetta una vincita all'azzardo. Non solo, ma con un'altra diapositiva possiamo vedere che più è forte il desiderio, più le aree interessate si attivano. E questo lo sanno benissimo gli ingegneri strapagati della pubblicità per l'azzardo, perché costruiscono marchi ingegni, algoritmici, per i quali veramente il cervello di chi più facilmente è vulnerabile, andrà nella direzione di giocare, 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 azzardare, azzardare. Abbiamo visto prima nell'esempio che ci ha fatto, che cosa accade nel cervello di uno che sta assumendo cocaina, ecco perché più o meno è simile a chi sta per giocare o gioca in continuazione. La ricerca della eccitazione, del piacere di questa dimensione particolare per cui è bello, allora si continua. Il gioco d'azzardo diventa una cosa. La cosa interessante è che quando c'è una perdita si ha lo stesso tipo di piacere di quanto si vince, mentre si gioca si perde il controllo. Senta, la diagnosi come viene fatta? Cioè come viene accertato da un punto di vista diagnostico che quel soggetto è un giocatore d'azzardo, quindi è malato di gioco d'azzardo. Lo specialista di riferimento e lei è uno psichiatra, quale altra figura specialistica eventuale? Dobbiamo distinguere due grandi dimensioni per la cosetta diagnosi. Una scientifica, come dire, ufficiale che viene fatta da specialisti nei servizi per le dipendenze in particolar modo e un'altra invece che può fare chiunque oppure la stessa persona, ma vediamo di distinguere questa cosa. La diagnosi scientifica si riferisce in particolar modo a dei criteri diagnostici del manuale diagnostico e statistico e disturbi mentali, DSM-5 si chiama in gergo, che definisce un disturbo a gioco d'azzardo che è stato messo proprio fra le dipendenze attualmente. E intervengono diverse figure professionali, lo psichiatra, il medico, lo psicologo, l'educatore, assistente sociale. Perché? Perché sono diverse aree interessate, non soltanto l'area medica in senso stretto. E comunque, riferendosi a questi criteri, si capisce bene che l'azzardare è veramente nel novo delle dipendenze, tra virgolette. Perché? Perché c'è il meccanismo della sfefazione. Un azzardatore, un giocatore, gioca e rigioca, ha bisogno di mettere sempre più soldi per poter soddisfare questo bisogno, questa eccitazione, per dirla in sintesi. Non solo, ma si crea una vera condizione di astinenza, una vera condizione di astinenza e quindi crisi di astinenza se per esempio non ha la possibilità di giocare. Quindi questa irrequietezza, simile proprio in qualche modo alla crisi di astinenza da eroina addirittura. e poi questa illusione di controllare non è capace di controllare il suo ritornare a giocare, quindi la perda del controllo. Poi questa preoccupazione, questo assorbimento totale nel gioco d'azzardo, in qualche modo tutto il suo tempo, tutte le sue attenzioni sono rivolte all'azzardo. E poi ancora la sensazione di disagio, questo evitamento della negatività, dei pensieri, delle emozioni, si sente indifeso, colpevole, ansioso, depresso. E poi ancora rincorre continuamente le perdite, ho perso, devo assolutamente recuperare. Beh, questo è un meccanismo particolare, perché il giocatore d'azzardo che rincorre le perdite cosa farà? Che tornerà a giocare, perché si deve rifare, finché non perde tutto. Ma anche quando vince, pensa che vinco e quindi ritorna a giocare finché non perderà tutto. Qualche volta vince e dice adesso mi fermo perché so, mi metto da parte i soldi, però questo meccanismo lo riporterà a giocare di nuovo finché non perderà tutto. Lui mente per, se puoi tornare indietro un attimo per favore, lui mente per occultare l'identità e il proprio coinvolgimento è un gioco d'azzardo, perché le bugie sono all'ordine del giorno, soprattutto ai familiari. Poi ovviamente vedremo magari dopo una serie di problemi multidimensionali nell'area del lavoro, il tempo libero, nell'area psichica, mentale, familiare, relazionale, economica e finanziaria ovviamente. E poi va in cerca di soldi continuamente ai parenti, agli amici, gli usurai, le agenzie di credito e così via, le banche. Abbiamo quell'altra bella diapositiva che avevamo intravisto, eccola qua. Come fai a saperlo? Uno può fare anche un'autodiagnosi? Sì, magari in un incontro con un amico, con un conoscente, magari parlando, un dialogo così informale, gli puoi chiedere, ma ti ritrovi frequentemente a pensare all'azzardo? Se risponde sì, problema legato all'azzardo. Stai perdendo denaro? Problema legato all'azzardo. Stai azzardando mentre avessi dovuto fare altre cose, perché molto tempo viene impiegato per stare davanti alle macchinette, magari c'è un problema serio in famiglia, bisogna andare a fare la spesa o altre cose più importanti. Pagare l'affitto, pagare le bollette. Sì, pagare le bollette. Hai pensato che dovresti smettere? Qualcuno ti ha detto che dovresti smettere? Ti senti un po' subito in colpa per il fatto di azzardare? Pensi di avere qualche problema? Beh, non c'è bisogno di specialisti qua, ognuno può dire che c'è un problema legato all'azzardo. Diamo qualche numero sull'azzardo, molto molto veloci. Abbiamo preparato tre diapositive, andiamo velocemente, però abbiamo la necessità di capire la vastità di questo fenomeno, soprattutto da un punto di vista sociale. Vediamo queste diapositive. Ecco, questa è la prima. Questa è sintetica, ci fa vedere come progressivamente si è aumentata a dismisura la spesa. Nel 2004 si spendevano 25 miliardi di euro, oggi si spendono, questa è da aggiornare, la settimana successiva, siamo a 101,8 miliardi, forse non si vede bene, ma siamo a 101,8 miliardi di euro l'anno scorso, nel 2017, perché nel 2018 ancora non abbiamo dati certi, e naturalmente lo Stato, ecco si vede bene qui nel 2017, 10 miliardi ha introitato, ma è soltanto un decimo di quello speso, perché 101 diviso 10 fa 10,3, d'accordo? Nel 2004 era un terzo venimento aiutato dello Stato, adesso un decimo, quindi è, come dire, forviante dire che lo Stato ci guadagna, ci perde, ci perde di molto, per i motivi che magari vedremo anche più in là. Ultima diapositiva che abbiamo preparato. Questo mi preoccupa molto, questo numero, perché il 15,7% degli studenti fra i 15 e 19 anni, una ricerca fatta nel 2014 e poi anche progressivamente dal 2008 al 2017, il 15,7% degli studenti è a rischio. Dire che uno studente è a rischio significa che lo studente ha problemi, perché se uno studente è considerato a rischio, che ha risposto magari che ha giocato, che i soldi che gli danno a casa li spende per azzardare, che chiede frequentemente gli spiccioli a casa per andare alle slot machine. Quello non significa essere a rischio, significa avere già un problema legato all'azzardo a quell'età. Senta, che cosa facciamo? Scusi, l'Abruzzo ovviamente abbiamo visto, l'Abruzzo è al primo posto perché è di molto al di sopra la media nazionale, che è 13,5%, noi siamo al 15,7% ed è il primo, non solo di un ordine alfabetico, ma primo in assoluto. E non è un dato particolarmente confortante, come giustamente dice lei. Dottor Di Salvatore, cosa fare, visto che lo Stato è considerato un po' un biscaziere e il gioco d'azzardo sembra essere considerato un affare di Stato? Non è un affare di Stato perché non è un buon affare per lo Stato, perché i costi sono veramente molto molto alti, sia in termini di costi sanitari diretti che indiretti, sia perché l'azzardatore perde soldi, spesso si assenta dal lavoro, la produttività ovviamente e il rendimento lavorativo è sicuramente inferiore. E poi tutti i costi legali, i divorzi, i litigi, andare in tribunale continuamente, i problemi legali e poi c'è una grave sottostima perché in questo studio che vediamo lo Stato perde 2 miliardi, quasi 3 miliardi, ma non è così, è molto di più, perché intanto a questo studio sono esclusi i minorenni e poi le voci di costo sono limitate e poi soltanto i costi pubblici, tutti i miliardi di lacrime che perdono nelle famiglie, il mancato introito d'IVA perché è tassato l'azzardo per il 9% invece che il 22% come tutti gli altri beni e servizi, il mancato utilizzo di risorse alternative, cioè tutti questi soldi avrebbero potuto essere investiti diversamente, tutto quello che ha a che fare con l'usura e l'illegalità e poi il benessere, la cultura e tutto quello che viene dopo, insomma il danno è veramente tanto, non è un affare di Stato. Quali sono le cause che trasformano il gioco in una dipendenza? Beh, intanto i fattori interessano sia la persona, sia il contesto sociale, sia lo stimolo, cioè lo stimolo in pratica rappresentato da tutte quelle occasioni di gioco, dalle macchinette, dai contesti, dalla diffusione, dalla ubicazione. Il contesto sociale ovviamente ha anche la possibilità che vi sia questo, come diffondere da parte dello Stato, quindi le leggi fanno parte anche del contesto sociale, del contesto familiare e poi ancora l'individuo con la sua particolare personalità, con i suoi particolari bisogni e il suo comportamento. Se manca uno di questi tre fattori non si può avere l'azzardo, togliamo di mezzo la persona, niente problemi legati all'azzardo, togliamo il contesto sociale, niente problemi, quindi tutte e tre insieme ed è una serie combinata di fattori veramente molto elevata che non sto qui a descrivere. Certo i giovani sono più esposti e quando in un contesto familiare si gioca d'azzardo è chiaro che il ragazzo più facilmente andrà incontro anche lui a questo tipo di problema. Possiamo individuare i sintomi che sono correlati proprio allo sviluppo di una ludopatia? Sì, sono davvero tanti i problemi e sono multidimensionali, cioè interessa non soltanto la sfera psichica della persona ma anche la sfera mentale, la sfera relazionale, familiare, lavorativa, lo studio, il tempo libero, gli affetti, i sentimenti, le tasche, i soldi, i soldi in aspetto finanziario e poi ovviamente tutti questi elementi, tutti questi danni non solo si sommano ma vanno a influenzare anche la vita delle altre persone, quindi non sono soltanto multidimensionali, sono anche sistemici che coinvolgono i familiari, coinvolgono i parenti, coinvolgono gli amici e anche chi non gioca, anche persone che non conosciamo se azzardiamo, vengono in qualche modo danneggiate per i costi sociali e sanitari. Altra diapositiva, questo è uno che sta arrivando all'estremo. Sì, questa è la fase della disperazione si dice, non è solo il suicidio, a volte anche l'omicidio perché chissà il giro dell'usura, il giro della legalità, quanti crimini anche in questa direzione e ovviamente si hanno disturbi psichiatrici in senso stretto ma sono anche danni finanziari, penali, familiari, lavorativi e scolastici di tutti i tipi e non solo. Senta, come si cura una dipendenza dal gioco? Questa è la posizione, dice anche i danni organici in senso stretto ma possiamo sorvolare che non sono sempre presenti però in casi estremi ci sono anche... E sono tanti e gravi come vediamo. Come si cura una dipendenza dal gioco d'azzardo? Quali risorse e quali interventi si possono mettere in campo? Servizio pubblico, volontariato, come possono attivarsi? Si riesce a smettere di giocare e soprattutto come si riesce poi a non ricominciare? Una domanda complessa, vediamo come risposta. Grazie per questa domanda perché intanto mi dà la possibilità di dare speranza e fiducia alle famiglie, non che bisogna iniziare a giocare e avere problemi per poi uscirne fuori, per carità, ma tanti, tanti smettono di giocare e gli strumenti che abbiamo a disposizione sono così, come dire, complessi e complementari e dotati anche di reciprocità fra pubblico e privato, sociale, per cui le ricadute sono meno frequenti se si lavora veramente bene, se si interviene in maniera adeguata, con il cuore oltre che con il cervello e con la professionalità. Il servizio pubblico per le dipendenze è importantissimo e fondamentale perché le figure che vi lavorano, il medico, lo psichiatra e anche il rapporto con il medico di medicina in generale, intervengono soprattutto sulle patologie in senso stretto, psicofisiche, di tipo medico-psichiatrico. Lo psicologo è importante perché con la possibilità di fare psicoterapia sicuramente aiuta le persone a uscirne fuori, come pure l'assente sociale per problemi legali o anche casi particolari di assistenza vera e propria, bisogna mandare la Caritas a volte perché le famiglie sono ridotte al lumicino in termini di denaro. L'educatore professionale è anche importante per fare un intervento educazionale. Ecco, questa complementarietà con il privato sociale è importantissima perché abbiamo un'associazione di volontariato come la Caritas o Centri di Antiusura con i quali ci relazioniamo continuamente perché i bisogni sono anche in quella dimensione, anzi, spesso soprattutto in quella dimensione. I gruppi di automutuaiuto con i giocatori anonimi, i gama nonni, i familiari dei giocatori anonimi oppure i club di ecologia familiare che accolgono vari tipi di disagio, compreso l'azzardo, oppure i gruppi di automutuaiuto per l'azzardo specificamente, lavorano molto bene in complementarietà con il servizio pubblico, le ricadute sono davvero molto meno frequenti. Qualche volta bisogna inviare programmi residenziali in comunità terapeutica perché la situazione è veramente grave, soprattutto ambientale, in famiglia non ce la fanno più. Allora, ci sono quelli che ce la fanno e come fanno a non avere recidive e a non ricadere nel gioco? Sì, intanto imparare a controllare gli impulsi e questo lo insegnano soprattutto gli specialisti, ma anche la terapia cognitivo-comportamentale in fondo si impara anche con persone che hanno smesso di giocare e ti insegnano come fare. Quindi sia il servizio pubblico, la terapia in senso stretto, la psicoterapia in senso stretto, sia i gruppi di automutuaiuto con il sostegno reciproco fra persone e famiglie che hanno avuto il problema, che hanno il problema e che hanno imparato a farlo nel modo giusto, per esempio togliere il banco quando togliere la carta di credito, anzi cointestare per esempio il conto corrente dove arriva lo stipendio. Poi in certi casi estremi siamo arrivati a far nominare dal giudice tutelare un amministratore di sostegno perché non se ne poteva più, però sono casi rari quelli. Di solito si fa molto bene, molto facilmente con i gruppi e con i servizi. 30 secondi, la criminalità organizzata c'entra qualcosa? Caspita se c'entra, c'entra sì perché molte macchinette sono illegali, si sa, vediamo tanti servizi anche in televisione, poi tutto il giro in sostanze superfacenti perché spesso l'azzardo si combina con l'uso di cocaina, con l'uso di bevande alcoliche e gli omicidi, i furti e le attrazioni delittuose ovviamente si ben complementarizzano con l'azzardo. Di certo non aiutano da un punto di vista del condizionamento positivo marketing e pubblicità, anzi incidono negativamente mi sembra di capire. Certo, purtroppo gli ingegneri sempre famosi con gli algoritmi sanno come stimolare, ero attento ieri sera, poi dicono velocemente il gioco d'azzardo può creare dipendenza, però non lo fanno quasi sentire, sembra quasi che vogliano tutelare, in realtà stanno semplicemente spingendo. E poi il gioco d'azzardo patologico, perché pare che esista un gioco d'azzardo fisiologico è impossibile, non esiste un gioco d'azzardo fisiologico, si perde sempre, perché il banco vince sempre, quindi è sempre dannoso. Certo, chiudiamo con quali proposte per cercare di risolvere o quantomeno limitare questo problema? Beh, anzitutto ognuno dovrebbe chiedersi cosa faccio io per limitare il problema, cosa posso fare io adesso per migliorare la situazione? Semplice, scegliere di non azzardare mai, se viene il parroco con il biglietto della lotteria per la parrocchia, si fa un'offerta, si chiede la ricevuta, ma non si compra il biglietto della lotteria, io faccio così e lo strappo quando insistono perché io lo prenda, perché quello significa puntare qualcosa, affidarsi al caso perché si vuole vincere qualcosa, è un azzardo. E' anche, diciamo, bambinesco, su, forza, ingenuo. La lotteria della parrocchia. Allora, significa, beh, si fa l'offerta ovviamente, non si sta mettendo sull'assico della parrocchia, significa implementare la cultura dell'azzardo, e allora ogni cosa che va in quella direzione significa implementare… Si fa l'offerta e non si prende il biglietto. Esattamente, esattamente. Allora, perché il regolamentare non è proibire, non proibizionismo perché saremmo nei guai, come lo fu per l'alcol nei tempi andati, però bisogna fare in modo che diminuisca il consumo, quindi diminuisca le attività legate all'azzardo e così diminuiranno i problemi, così come per il sale abbiamo visto. Allora, ridurre l'offerta significa che bisogna tagliare il numero delle slot machine e delle new slot e prevedere il numero massimo di punti di gioco sul territorio, i bar, tabaccai, i mercati, sale bingo, sale scommesse e così via. Di vietare in aereo, in nave, in autobus, in treno, l'offerta di gratte vinci o altro, perché io non prenderò più una compagnia aerea che non nomino qui ovviamente, dove mi hanno offerto gratte vinci, ho detto no e ho spiegato. E quella insisteva, io ho detto, beh, non salirò più con le vostre compagnie. E poi ridurre progressivamente le licenze, perché questo diminuisce ovviamente l'offerta. Poi ancora la legislazione nazionale, ma che sia seria, i provvedimenti regionali che siano seri, non è possibile adottare la legge di vieto della pubblicità e poi la pubblicità continua anche in maniera un po' stramba. Poi collocare oltre 500 metri tutti i luoghi sensibili, gli ospedali, i luoghi di culto, i giochi dei ragazzi, per esempio, gli assini nido, le scuole e così via. E poi verificare che i requisiti locali siano quelli giusti, perché spesso si è dentro degli sgabuzzini. L'apertura deve essere massima di 8 ore, non 24 ore, come succede in qualche posto. E poi ancora gli incentivi devono essere regolamentati. La pubblicità deve assolutamente essere assoluta e deve essere vietata la sponsorizzazione, sia quella diretta che quella indiretta, perché è assurdo che un concessionario si metta a fare beneficenza associandosi con alcune associazioni di volontariato. Ma stiamo scherzando? Si va a prendere per i fondelli la gente? Non è possibile, no? E poi contrastare la diffusione nell'azzardo, con la testa sanitaria deve essere obbligatoria, solo le monete, vincita massima, così e così. E poi ancora i punti dell'osservatorio, che sono alcuni che ho detti, le proposte dalla Commissione Antimafia, significa mettere anche il cosiddetto, vabbè, l'agente mascherato, come si chiama, vabbè, uno che può infiltrarsi, ecco, come succede per altri crimini e come succede per le sostanze stuprofagenti. Assolutamente, sì. Abbiamo un'ultima diapositiva, anche perché sto andando quasi in sigla, c'è sempre tempo per imparare a giocare, no? E questa è la conclusione, dottor. Sì, sì. Se vogliamo giocare, abbiamo i figli, abbiamo i nipoti, abbiamo i bambini, impariamo da loro, perché il gioco sano è quello che ti fa sentire libero, quello che ti fa stare bene, quello che ti fa crescere, quello che sviluppa crescita professionale, crescita umana e collettiva. Palette e secchiello, anche a una certa età, per distendere. Grazie, grazie, dottor Adelmo Di Salvatore, grazie per essere stato con noi. Grazie a lei, grazie a lei, dottore. Psichiatra, direttore dell'Unità Operativa Complessa, servizio per le dipendenze, area Marsi, Casola, Avezzano, Sulmona, L'Aquila, con lui abbiamo parlato di ludopatie, come arginare questo fenomeno, in molti casi negativo, della nostra società. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato a questa trasmissione, Francesco Specchiulli in regia, Andrea Di Fabio in posto di produzione, grazie a voi telespettatori, con voi ci vediamo la prossima settimana. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti.